Il pomeriggio di pioggia ha un po' scoraggiato, ma anche forse perfino ragionevolmente, perché effettivamente si camminava con i piedi nell'acqua, quindi siamo pochi ma molto interessati all'argomento. Allora, intanto buonasera. Questo incontro è dedicato, come sapete, al centenario della nascita di Paolo Volponi e abbiamo con noi un esperto davvero significativo di questo argomento e di tutta la tematica del rapporto fra letteratura e industria, letteratura e lavoro, che è Daniele Maria Pegorari, che insegna letteratura contemporanea alla Universitas Mercatorum dopo una lunghissima carriera di professore e anche di critico letterario presso l'Università di Bari. Quindi il suo contributo ci è particolarmente gradito e, come abbiamo avuto modo di annunciare, è anche arricchito da un documento, del quale il professor Pegorari vi parlerà, che è un inedito e quindi particolarmente prezioso per ricordare Paolo Volponi quest'oggi. Allora, buona serata. Grazie alla professoressa Durante per questa introduzione e grazie a voi per essere venuti, perché veramente rischiava di essere proibitivo questo pomeriggio. In ogni caso vi sarà grata anche l'anima di Paolo Volponi perché ricordare questo autore nel centenario della nascita e anche nel trentennale della morte, in realtà, che è ancora più vicino perché è nato a febbraio del 24, poi morto ad agosto del 94, quindi insomma siamo, diciamo, freschi anche di anniversario della morte. E un autore, io direi straordinario, e lo potrebbero confermare i miei allievi, qui c'è anche qualcuno ex allieve, insomma, che nel tempo, quando hanno scoperto la vicenda di Volponi, la sua scrittura e il rapporto stretto con quella stagione importante della storia dell'industria italiana, che è la pagina dell'Olivetti, di Adriano Olivetti, ecco, quando si sono affacciati a questo binomio Olivetti-Volponi hanno scoperto un mondo straordinario. E questo fa sì che io mi sia poi convinto nel corso del tempo che davvero Paolo Volponi è un autore che non dovrebbe proprio essere scardinato dal canone dei classici della letteratura italiana. Non solo narratore, ma anche come poeta, come poeta straordinario. Direi che sia sul fronte della poesia che su quello della prosa, direi che fra i primi tre, e quattro poeti e scrittori dell'intero dopoguerra. Di questo pomeriggio è una conversazione, una chiacchierata, è un modo per accostarci al memoria di Paolo Volponi. E anche la dimensione così contenuta, ma selezionata di pubblico, con diversi volti e amici, mi mette un po' nelle condizioni appunto di fare più una conversazione che non una lezione, che non era assolutamente nei miei nostri progetti, perché questa cosa l'abbiamo pensata con la professoressa Durante, quindi sono contento, non sapevo che mi avresti introdotto tu, ma sono contento che tu l'abbia fatto. E appunto sul suo suggerimento, in questo pomeriggio, vedremo un assaggio di una video intervista che si intitola Quattro passi con Paolo Volponi, che sta andando in loop nel corridoio, per chi voglia vederlo per intero, dura una cinquantina di minuti. Ovviamente noi qui vedremo soltanto due assaggi, due spezzoni. È stato un po' difficile tagliare, decidere, anche perché nel flusso molto continuo del suo discorso, cioè anche proprio fare il taglio diventa difficile per me e per l'assistente, che è il tecnico a cui darò tra poco un segnale. Non c'è proprio un secondo molto preciso da cui si possa iniziare, perché veramente è un flusso molto continuo, ma ci proveremo. Ho isolato due parti, i primi sette minuti circa, poi un'altra dozzina di minuti verso la fine. Quelli che vedremo adesso sono proprio i minuti iniziali, i primi sette minuti e mezzo circa iniziali di questo filmato, che è stato voluto da Giorgio Baratta, che era un professore di filosofia dell'Università di Urbino, stiamo parlando di uno scrittore urbinate, e in questa video intervista è stata girata appunto a Urbino. Inizia così, lo vedremo tra poco, con Paolo Volponi seduto di spalle, poi lo vedremo frontale, su una panchina del Belvedere di Urbino, guarda la sua città e c'è un intervistatore, che è un giornalista tedesco che con Baratta appunto ha girato questa video intervista, che è un documento importante, praticamente inedito, cioè non lo si trova in giro, noi stessi l'abbiamo ricevuto direttamente dalla figlia. Lea Durante ricordava di aver visto a suo tempo questa intervista, ma poi insomma non ha girato, non è stata pubblicata. E questo video lo stiamo ora proiettando su gentile concessione della figlia di Paolo Volponi, Caterina, che ho avuto modo di incontrare nel convegno che ha aperto le celebrazioni di Paolo Volponi quest'inverno a febbraio a Urbino. Quindi la cosa interessante di questo documento, poi partiamo appunto con la visione dei primi minuti, è che è stata girata nell'ultimo anno di vita di Paolo Volponi. È una video intervista di aprile 1994, quindi a due mesi dal suo compleanno e a quattro mesi dalla sua morte. Quindi è un documento anche particolare. Anche vedrete nell'inizio, a me questo pare interessante, quindi non voglio che si traccia, lo vediamo così com'è, inizia in modo tipico di un documento che doveva essere finito, doveva essere pulito, insomma un intervento di editing sarebbe stato necessario, se il film fosse stato pubblicato. Invece no, è così. Così com'è, sentiamo anche Paolo Volponi che all'inizio, quando c'è già la macchina che lo sta riprendendo, dice al giornalista ma lei mi saluta? Cioè appunto voleva sapere che tipo di attacco, cioè lui si avvicina e lo saluterà? Come inizia questa intervista? Ecco, è un piccolo dettaglio molto personale che mi pare molto tenero appunto. Tenero perché è la testimonianza di un uomo che poi in realtà non ha mai potuto vedere nemmeno questa intervista nella sua versione finita e ben pulita. Prego. Scusami, a questo punto mi ha allontanato. Non mi ha allontanato. Io parto da qua. Ma con il gioco però stai... Vai. Vai. Ok? Vai Bernardo. Lei vi saluta? Sì, sì. Scusami, qui abbiamo visto a Paolo. Paolo Volponi, sono a Panna Fleccina. Salute. Buongiorno. Buongiorno. Quante volte hai visto queste immagini? Molte volte. Io sono nato in Urbino 70 anni fa e più, quindi molte volte. E' un'epia, questa... Beh, è un aprile un po' scuro, sì, contrastato. Per aprile da noi non è un mese molto luminoso. C'è un proverbio anche che dice, aprile ogni goccia ha un barile. È il momento in cui si bagna la campagna. Ma io ho detto, altra gente, va di Urbino, che qualche volta, non è la nebbia, ma sono proprio nuvole. Forse nuvole, forse nuvole che si abbassano e si impigliano a quelle torri, a quei campanini e restano lì con noi per delle settimane. Può darsi. Come quel famoso tetto, un sogno nelle nuvole anche, ma che Urbino un po' sta fuori dal mondo anche. È vero questo? O anche molto vero, perché se parliamo un po' di Urbino ci accorgiamo poi dei problemi che ha, che sono proprio quelli del suo rapporto con il resto del mondo, insomma. Con il resto anche del territorio circostante della nostra provincia e poi del mondo. Perché, vede, questa è una città straordinaria, bellissima, no? Quello che noi vediamo è l'immagine stessa della bellezza Urbinate. È la parte a sud del Palazzo Ducale, quella chiusa dai torricini, la grande invenzione dell'architetto Laurana, affiancata al Duomo. C'è questo grande massiccio che è proprio un esempio dell'architettura proto-rinascimentale italiana, in sostanza. Ecco, dopo poco le ricerche di Leon Battista Alberti con il Tempio Malatestiano, si costruisce questo palazzo, che è il primo palazzo al mondo, costruito veramente come palazzo. Nell'interno della città? Nell'interno della città è senza più scolte militari, caserme, trabocchetti, sale per la tortura, per la scherma, niente di tutto questo. Ma un palazzo anche del governo, dell'amministrazione, dell'umanità nuova che veniva fuori con i primi pensatori del Rinascimento. Questa è una cosa che volevo chiedere proprio a lei. Che anima avevano questi uomini, anche donne, che hanno costruito questa città? Quale era il loro sogno, il motivo principale? Era di costruire una capitale, una signoria che si fondasse con equilibrio sulla società dello Stato e sullo Stato. Con ordini chiari, con cultura, con scienza, con grande capacità di ricerca, con grandi architetti, pittori alla corte, grandi letterati. Qui sono stati tutti più bravi che venivano, in sostanza. Vado a dire che il palazzo ispira, è ispirato da Piero della Francesca che ci ha lavorato, che ci ha lavorato Paolo Uccello. Qui è stato Baldassare Castiglione che ha scritto il suo libro sul corteggiano, in sostanza. Che qui ha fatto le ricerche matematiche, quel grande Luca Pacioli, del quale quest'anno ricorra un centenario, si fanno festeggiamenti. Che c'è un quadro misterioso che era a Urbino e che adesso è a Napoli, a Capodimonte. Un quadro bellissimo di Jacopo dei Barbari. Che quindi anche questo pittore strano, nordico, era passato per Urbino, come altri pittori del nord, giusto di Gand, che il Duca aveva chiamato anche per fare il proprio ritratto. Quindi era un centro di civiltà. Tutto questo era possibile perché il Duca era il comandante delle forze militari terrestri di Venezia. E aveva per questo un grosso potere, ma anche una grossa remunerazione, molti soldi. Tant'è vero che lui con quei soldi ha costruito il palazzo e che nel palazzo, nella sala del trono, c'è il leone veneziano. Come riconoscenza. Ecco. E quindi questa è una città importante, una delle più importanti d'Italia fra il 1460 e il 1530. Poi è cominciata la sua decadenza, anche perché Federico ha avuto un figlio, Guidubaldo, malato, che non ha potuto proseguire l'opera del padre. Non ne aveva né la forza né le qualità, in sostanza. Tant'è vero che poi presto ha dovuto lasciare e allora il dominio della città è passata una famiglia di parenti di Senigallia, i della Rovere. I quali non sono stati bravi come i Montefeltro. I Montefeltro erano originari di questi luoghi, delle campagne interne del Montefeltro. Amavano Urbino e questi luoghi scoscesi. Erano stati dei piccoli conti che avevano lottato un po' fra l'impero e la chiesa. Questa foltezza albornoz c'è perché il cardinale albornoz per conto del papo è venuto a pacificare queste terre che tendevano un po' verso l'impero e ha lasciato questo segno secolare che domina la città. La disgrazia di Urbino è che i Montefeltro siano finiti presto, in sostanza. Da quel momento ha praticamente finito lo statio di Urbino che è andato sotto la tutela della chiesa e poi nel 1631 è stato preso proprio dalla chiesa che l'ha trattato bene, ci ha messo una legazione, la considerava importante, ha rispettato certe cose eccetera. Ma ha portato via per esempio tutto. Prima aveva portato via tutto, l'ultima della Rovere che andava a sposa un medici di Firenze, tutti i quadri, tutto, perfino le tende del palazzo. Perché il duca e la duchessa nel dittico di Federico sono agli uffizi a Firenze? Quadro fatto qui. Perché l'ha portato via lei? Perché era roba di casa sua. Così ha portato via i Raffaello, i Tiziano, tutti gli altri quadri che appartenevano alla famiglia che era nel palazzo ducale. Dopo il 31 la chiesa ha amministrato questi luoghi che cominciavano già però a andare un po' in decadenza. Le altre città di Rinascimento si erano ingrandite, completate, avevano acquisito una forza molto maggiore di quella che era rimasta a Urbino. E a Urbino c'è stata una decadenza pesante per tutto il Settecento, l'Ottocento. C'è stata una ripresa nel Settecento quando i primi vent'anni del Settecento è stato Papa Clemente Undecimo, un Albani di queste case qui. E lui ha fatto molto per Urbino. Allora, questo primo spezzone del film mi serve per mettere in evidenza una prima parola chiave che riguarda l'itinerario di Paolo Volpò nel suo rapporto con la realtà, che è la parola utopia. Utopia è una parola continuamente richiamata per la scrittura, per il pensiero, per la storia personale di Paolo Volponi. E direi che questa, così come è centrale nella storia di quell'industriale che ricordavo prima, Adriano Livetti, mi sa che parlerò di Paolo Volponi avendo in mente Adriano Livetti, perché in genere quando parlo di Adriano Livetti è in mente Paolo Volponi, cioè in genere i due grandi personaggi si trasfigurano uno nell'altro. Utopia è centrale per l'uno e per l'altro, in un senso di attenzione, non di fuga dalla realtà, come purtroppo la parola utopia finisce con l'accezione con la quale in genere noi utilizziamo questo termine ed è sbagliatissimo perché per questi grandi utopisti l'utopia è un programma di lavoro nella realtà. non è fuga, non è immaginazione, non è sogno. Ora perché questa introduzione, questi primi minuti ci aiutano a capire il concetto di utopia in Volponi? Perché questa parola in realtà Volponi l'ha respirata nella sua città natale, è un tuttuno con la nascita di Urbino che lui qui sta descrivendo. E' interessante, intanto non so se avete apprezzato i riferimenti architettonici, artistici, nomina pittori del 4 e del 500 come se li avesse in casa. In realtà in casa non aveva quadri del 4 e del 500 ma del 600 sì, perché era un grandissimo collezionista d'arte, soprattutto poi negli anni più maturi del suo percorso. e tenete presente che là nel palazzo ducale di Urbino, che ha una delle pinacoteche più belle del nostro paese, c'è una sezione specifica che è intitolata a Roberto Volponi, il figlio di Paolo Volponi, che morì in un terribile incidente aereo. E allora Paolo e la moglie hanno poi donato una buona parte della loro collezione privata alla pinacoteca del palazzo ducale di Urbino. Quindi insomma è un uomo che ama molto l'arte, un cultore che si compiace anche di riferimenti artistici piuttosto raffinati. Ma dicevo, è interessante quando parlando della costruzione del palazzo del Duca di Montefeltro, ne parla come appunto non un castello, ma la città del buon governo. Non ho voluto complicare la vita con altri supporti video in questo momento, però forse a molti di voi sicuramente, ai miei e le mie ex allieve, sarà noto il quadro che è presente nella pinacoteca di Urbino, quello della città ideale, un quadro anonimo, qualcuno lo ha attribuito a Leon Battista Alberti, però insomma di fatto è anonimo, risale agli ultimi decenni del Quattrocento, rappresenta appunto la città ideale. Fu voluto dal Duca di Montefeltro, però davvero non può assomigliare affatto quella città ad Urbino per questioni strettamente geografiche, perché l'immagine della città perfetta in quel quadro è l'immagine della città in pianura, molto squadrata, con una piazza che ha un impiantito che esalta le fughe prospettiche di questo luogo, con architetture molto simmetriche. E' la città perfetta, con l'idea che una città organizzata spazialmente in modo ordinato non può che rendere armoniosa la vita dei cittadini e dunque renderà poi pacifica e felice. Urbino non poteva certo assomigliare a quella città geometrica, però in quella città geometrica e perfetta si rispecchiava. E comunque Urbino, Urbino reale intendo dire, per il fatto di essere costruita sulla sommità di una montagna, diciamo che corrisponde perfettamente ad una delle due caratteristiche più tipiche delle città utopiche, delle città felici, che in genere sono costruite o sulla sommità di una montagna o su un'isola, perché devono anche essere luoghi della perfezione, quindi non contaminati dal resto del mondo. Se noi leggiamo romanzi o trattati politici di struttura utopica di età moderna, sono del 5-600, è sempre un po' così. Le città perfette sono sull'isola oppure su una montagna, quasi intoccabili per gli altri. Quindi c'è da un lato questa utopia della intoccabilità, della perfezione, del giardino perfetto. Dall'altro di un luogo che non ha, proprio perché è perfetto ed è regolato da leggi sane, non ha bisogno, non avrebbe bisogno di armi. Su questo insisteva molto Volponi in questo inizio di intervista. Quindi sta raccontando il momento felice di nascita della sua città, poi sfumava nella parte finale, raccontando come invece a partire dal 6-700 la città abbia avuto una sua decadenza. Ora, questo tema chiave dell'utopia attraversa tutto l'itinerario personale e letterario di Paolo Volponi. Ma come tutte le parole chiave, come tutti i concetti più alti, come tutti i valori in cui crediamo di più, esiste anche il suo rovescio, esiste anche il suo negativo, esiste anche il rischio che quelle stesse caratteristiche di perfezione si trasformino in qualcosa di pericoloso, o malato, o di deludente. Non parlerò qui delle città invisibili di Calvino perché è altro argomento, però se ci fate capo, sono due autori molto vicini, in realtà, hanno da leggere anche questo, l'uno sul rovescio dell'altro, e non è un caso che tutte le città invisibili di Calvino, che è un ragionamento sull'utopia, contengono anche il loro elemento distopico. Non c'è perfezione senza rischio di infelicità, e al contrario non c'è inferno che non possa in qualche modo anche essere trasformato in un luogo di armonia, in un luogo di possibile ripresa felice. Ecco, Volponi si inserisce in questo percorso. E specificamente, questo per quello che riguarda il suo rapporto con le Marche, con l'Urbino di nascita, perché, sì, da un lato è una città che può esibire una sua nobiltà, una sua bellezza, una sua armonia, insomma, in fondo è un paese, è neanche grande, è un piccolo paese, tutto sommato, Urbino, bella ma piccola. Ma proprio perché è piccola, è soffocante, è fuori dalla modernità, non a caso comincia a declinare esattamente nei secoli poi della modernizzazione graduale delle altre città. Ma manno che si sviluppano le grandi città che poi diventano il luogo anche alla fine dell'industrializzazione, le città d'arte, come Urbino, perdono, poi dell'entroterra oltretutto, perdono completamente il loro spazio. allora i giardini e tra l'altro l'orto, l'orto è proprio uno dei luoghi, uno dei topoi dell'immaginario marchigiano, da Leopardi fino ai poeti d'oggi delle Marche. L'orto, il giardino chiuso marchigiano rischia però appunto di essere anche un luogo della separatezza e dell'assenza di storia e di progresso. E per questo con uno dei tratti costanti della scrittura di Paolo Volponi sarà il suo, sarà il bisogno di andare via ma anche il dubbio se chi va via dalla città d'origine, dei luoghi d'origine, faccia bene o faccia male. È giusto andare via per inseguire la modernità e il progresso o è giusto rimanere nei luoghi d'origine per lavorare e per mettere a profitto del suo territorio il proprio ingegno. Questo è uno dei temi costanti che Volponi ha affrontato in tutta la sua opera cominciando da un libro che doveva essere il primo, poi il secondo, alla fine è diventato l'ultimo dei suoi libri. Nel senso che lo pubblicherà soltanto alla fine, quasi alla fine della sua vita nel 1991, La strada per Roma. Ma in realtà questo libro era stato pensato come primo, già alla fine degli anni 50, poi lo sospende perché accade una cosa importante, accade nel 60 che muore Adriano Olivetti. Volponi stava lavorando all'Olivetti, era un dirigente dell'Olivetti, espressione diretta di quella grande progettualità su cui poi torneremo dopo, quindi non voglio anticipare nulla. Comunque stava lavorando all'Olivetti e credeva fortemente in quel progetto di una industria utopistica, di un'industria che potesse modificare la vita reale in modo felice. Al contempo, però, la morte improvvisa di Adriano cambia un po' le prospettive. Si rende facilmente conto, Volponi, che senza una mente illuminata l'industria si rovescia in qualcosa di negativo. Anche l'industria è un luogo positivo esattamente come le utopie che possono facilmente rovesciarsi in distopie alienanti. Allo stesso modo anche l'industria può produrre alienazione. E quindi scriverà un romanzo di getto che è memoriale che è uno dei capolavori della letteratura industriale a cui in genere Paolo Volponi è associato. E quello è un romanzo tutto sull'alienazione dell'operaio. Finito memoriale che gli dà un grande successo prima di memoriale Volponi aveva scritto solo libri di poesie aveva vinto per esempio anche il premio Viareggio è nato come poeta in realtà. Quindi pubblicato a memoriale torna a rimettere mano a quel libro che avrebbe dovuto che stava raccontando la storia di due giovani urbinati in cui c'è questo dilemma profondo bisogna rimanere qui o andare dove la storia passa in quel caso la storia passa per la città di Roma questo poi giustifica il titolo definitivo di questo romanzo La strada per Roma il romanzo viene scritto da quello che Volponi dice e poi bisogna vedere le carte che man mano vengono studiate se è esattamente così ma i principali studiosi cominciando da Emanuele Zinato confermano questa cosa il libro viene di fatto finito verso la metà degli anni 60 ma non lo pubblica neanche come secondo romanzo perché sente il bisogno urgente bruciante Volponi di scriverne un altro che scrive in pochissimi mesi La macchina mondiale che riguarda proprio il problema di come sia veramente sottilissima la linea che divide che separa un pensiero utopico di armonia sociale dall'orrore dalla violenza dalla disarmonia quindi scrive questo romanzo sull'utopia distopia la macchina mondiale e poi a questo punto la strada per Roma non lo riprenderà più e comincia a essere preso da mille altre cose anche dalle sue vicende di dirigente industriale poi in rotta ci torneremo con l'ambiente con l'industriale italiano quindi esce poi dal mondo dell'industria si dà la politica attiva prima come indipendente nelle liste del Partito Comunista italiano poi il senatore LPC alla fine dopo la scissione del Partito Comunista aderirà in modo organico a rifondazione comunista di cui diventa deputato quindi in questi questa intervista la sta girando mentre è negli ultimi suoi momenti di deputato di rifondazione comunista perché poi si dimetterà di lì a pochissimo per ragioni di salute e appunto poi muore ad agosto come vi dicevo questo per fare un po' il quadro il quadro molto veloce nel frattempo quindi pochissimo prima tre anni prima di morire riprende quel romanzo che in fondo avrebbe dovuto essere il romanzo d'esordio e la strada per Roma lo pubblica c'è qualcosa che unisce la macchina mondiale e la strada per Roma e non è certo lo stile narrativo perché invece sono due romanzi completamente diversi piuttosto sperimentale la macchina mondiale invece è molto tradizionale quasi un romanzo di formazione la strada per Roma e invece ciò che ne unisce è il fatto che con entrambi Volponi vinse il premio strega per molto tempo è stato l'unico autore italiano ad averne vinti due e soltanto molto più di recente Sandro Veronesi ha replicato diciamo questa particolata questo record dunque utopia come come spazio come luogo ideale per pensare il positivo della vita associata ma anche come pericolo permanente la storia del novecento e della storia a cui sta guardando Paolo Volponi è una storia in cui i grandi sogni alcuni grandi sogni di società felice si trasformano si sono poi trasformati nella realizzazione storica concreta in luoghi dell'infelicità luoghi dell'oppressione è evidente che l'esempio più classico che non possiamo evitare di fare quando ragioniamo su questa cosa è la storia dell'unione sovietica la storia del socialismo reale sottolineo questo aspetto perché il rapporto tra Paolo Volponi ciao Oscar il rapporto tra Paolo Volponi e la storia del comunismo mondiale e poi nella sua nella sua declinazione italiana è molto particolare molto originale guardo anche Lea che su queste cose è specificamente più esperta di me ed è un caso davvero unico soprattutto rispetto agli altri scrittori italiani insomma c'è una situazione piuttosto ricorrente nella storia degli intellettuali italiani dalla seconda guerra mondiale in poi in genere c'è stata una prevalente non egemonica a mio parere come troppo spesso si dice ma certamente prevalente tendenza degli intellettuali italiani degli scrittori soprattutto ad aderire al modello del partito comunista salvo poi per vari motivi per varie ragioni restituire le tessere mettere sotto una lente di critica profonda il modello del socialismo reale insomma c'è tutta una gamma poi di allontanamento dal comunismo come dottrina e dal partito comunista italiano è molto variegata diciamo il percorso di fuoriuscita dal comunismo dei letterati italiani piuttosto variegato Paolo Volponi non rientra in questa categoria forse è un caso più unico che è raro di scrittore che fa un percorso al contrario Volponi non è affatto un comunista direi di più non è affatto nemmeno un socialista in senso ampio è uno scrittore di formazione liberale tra l'altro borghese di provenienza cioè di famiglia di proprietari urbinati quindi della buona borghesia ricca urbinate ha la fortuna di lavorare prestissimo con un industriale come Adriano Olivetti si inserisce dunque molto presto in un contesto che non è assolutamente quello degli scrittori dell'engagement neorealista e non è assolutamente vicino al partito comunista italiano in genere non è vicino alla sinistra italiana il suo avvicinamento al partito comunista è un avvicinamento che passa attraverso invece una verifica della realtà è molto più empirico degli altri lo vedremo poi anche in tutto il suo ragionamento Volponi è un uomo della prassi un uomo concreto un uomo di cose e poi questo può cozzare con i suoi libri che invece sono spericolati sono strani sono funambolici soprattutto il mio preferito che è il pianeta irritabile un libro in cui in ogni pagina ti ha cambiato il punto di vista tre volte non sei più dove sei un libro funziona un po' come un calidoscopio del tutto antirealistico ma come persona molto pragmatico è un dirigente d'azienda ma di alto livello degli livelli al punto che negli anni 60 era impraticato di diventare amministratore delegato quindi non stiamo parlando ecco altri intellettuali hanno lavorato perché era una prassi per Adriano Olivetti assumere scrittori ha assunto Giovanni Giudici Franco Fortini Ingenio Pampaloni e altri era una sua prassi era convinto e la storia gli aveva dato anche ragione per la verità che un buon equilibrio fra funzioni tecniche funzioni tecniche ingegneristiche funzioni tecnico-amministrative e funzioni intellettuali creativa l'unione di queste tre cose avrebbe funzionato e reso grande un'industria e ci aveva visto giusto perché da questa storia nasce in realtà in Italia nasce nella fabbrica Olivetti di Ivrea programma 101 che è il primo personal computer della storia del mondo nato in Italia non nella Silicon Valley in un tempo in cui i computer erano grandi quanto metà di questa stanza e questo perché veramente c'era un innesto aveva visto giusto Olivetti ecco l'utopia che poi diventa proprio qualcosa di concreto e viene verificata in quel luogo è difficile pensare a un luogo più pratico di una industria di una fabbrica in cui si lavora insieme intorno a un progetto e ci aveva visto giusto è vero la creatività dei poeti può servire agli ingegneri e viceversa la serietà il rigore dell'ingegnere del tecnico serve al creativo il perfetto innesto di queste cose stava producendo qualcosa di importante peccato che però per sostenere una ricerca tecnologica come quella ci sarebbe stato bisogno anche di un di un contesto e di un sostegno anche pubblico che invece non ci fu d'altra parte c'erano pressioni dei grandi capitani di industria dell'industria tecnologica americana IBM in testa per frenare l'Italia una cosa che ricorre è un po' come la storia di Mattei con l'idrocarburi torna sempre questa cosa i grandi i grandi momenti di slancio italiani vengono vengono un po' frenati quindi non se ne fece niente poi quando l'Olivetti si mise a inseguire dopo negli anni 80 ormai l'IBM insomma il mondo dei computer ovviamente era troppo tardi e da qui poi nasce il declino proprio economico dell'Olivetti che non ha potuto reggere il confronto con la storia ma Volponi ha vissuto tutto questo invece nella parte gloriosa e ripeto in posizione di primo piano come dirigente come dirigente quindi conosce molto bene il fatto che quando parla dell'industria come comunità che può costruire la felicità degli individui ed essere modello per la costruzione di città di società di gruppi sociali lo pensa in modo molto concreto e con condizione di causa non in modo generico come appunto con la fantasia di un artista e però poi si deve anche scontrare e quindi anche poi nel suo rapporto con il comunismo cioè il rapporto con il comunismo è strano perché è un po' l'opposto in un certo senso lui arriva ad essere comunista proprio nel momento in cui si rende conto che l'industria invece se non guidata da una mente illuminata si trasforma in un luogo di alienazione in un luogo di sfruttamento in un luogo di oppressione e quindi man mano che affronta soprattutto all'inizio degli anni 70 affronta questa si pone in una collocazione di di critica di antagonismo rispetto alla nuova dirigenza dell'Olivetti prima e poi in generale col modello industriale italiano comincerà ad assumere posizioni sempre più radicali fino a diventare comunista io non ne ricordo molti così cioè di persone che sono diventate comuniste in genere il comunismo è una malattia giovanile che poi si trasforma in un'altra malattia che è quella sinile del buonsenso lasciamo perdere questa me la tengo per un altro momento e invece Volponi no cioè diventa diventa radicale è un uomo che si radicalizza man mano che la sua conoscenza della realtà diventa più concreta più profonda e più amara un cenno poi guardiamo subito il secondo spezzone perché con quello poi torniamo al problema dell'industria però già che ho nominato la macchina mondiale ho citato più volte vorrei dire qualcosina su questo su questo romanzo perché è un romanzo in cui si parla di Anteo Crocioni che è un contadino marchigiano ha spesso fatto riferimento a cose marchigiane Volponi un po' per rendere omaggio alla sua terra è un contadino che si convince che bisogna trasformare il modo di produzione delle terre attraverso l'introduzione di macchine fin qui tutto bene ci siamo è giusto soltanto che Anteo Crocioni è un dilettante e la sua visione completamente astratta dei problemi concreti lo porta in realtà a prendere una via di paradossale allontanamento della realtà un uomo nato nella concretezza della terra e che voleva lavorare con le macchine in realtà diventa un uomo astratto e si convince di essere un filosofo senza aver letto nulla di filosofia si convince di poter costruire delle macchine senza aver in realtà studiato nulla di ingegneria è un po' come come nel capolavoro di fine ottocento di Flaubert Buvar e Pecoucher in cui questi due copisti impiegati di basso rango si convincono di poter fare un sacco di cose soltanto leggendo dei libri più o meno imparando delle cose e mettendole subito in pratica ma no non è così lo studio è una cosa seria e la messa in pratica è una cosa seria che richiedono un enorme sforzo ecco Anteo Crociani fa ancora meno di Buvar e Pecoucher perché legge davvero molto poco molto meno e quindi in realtà costruisce macchine che non servono a nulla e siccome ovviamente non è compreso da nessuno comincia però a rovesciare questa idea questo isolamento che egli patisce rispetto alla sua comunità e cominciando la sua famiglia percepisce questo isolamento come un complotto nei suoi confronti e in realtà è lui che è un uomo estremamente aggressivo soprattutto nei confronti della moglie Massimina che invece sempre in questa bipolarità tra Marche e grande città soprattutto in quella fase Marche-Roma il romanzo che stava scrivendo riguardava il rapporto la possibilità di stare nelle Marche o andarsene a Roma e questo tema lo riporta poi nella macchina mondiale che in effetti scrive pubblica in quel momento perché Massimina lascia il marito Anteo perché non ne può più del suo non far nulla non darà si da fare per niente per la famiglia e per giunta era diventato aggressivo fisicamente aggressivo nei confronti di Massimina quindi questa povera donna lo lascia va a Roma a cercarsi un destino un destino personale quindi andrà a fare un lavoro modesto perché farà i servizi nella casa di un uomo politico di Roma ma è un lavoro è un lavoro reale e Massimina sta facendo quello che ogni persona dovrebbe fare prende in mano il suo destino cerca di lavorare onestamente e di mantenersi il romanzo poi avrà quello che noi stiamo leggendo in realtà è tutto una sorta di memoriale di Anteo negli ultimi giorni della sua vita perché sta cercando di autogiustificarsi di raccontare dal suo punto di vista perché era così violento con la moglie badate non sta negando che lo fosse ma cerca di dare una soggiustificazione della violenza più volte agita sulla moglie finché poi il romanzo ha un finale tragico che non vi svelo se no domani non leggete il romanzo invece la cosa più importante di questo ricordo di Volponi e sperare che vogliate leggerlo ora partirei con il secondo spezzone così prendiamo poi l'altra parola chiave che peraltro ho già anticipato ma ci ragioniamo perché mai è uscito trent'anni dopo è uscito trent'anni dopo che l'ho scritto perché quando l'avevo scritto mi sembrava che non cogliesse in pieno tutti i problemi che io volevo trattare in sostanza ecco forse ancora deriva troppo a quei problemi mi pareva che non riuscisse a dare un senso di profondità anche un giudizio su quelle cose ma che rimanesse un po' attaccato alla materia in più poi in quel momento io ho avuto l'idea di scrivere un libro che mi è venuto quasi furiosamente in fretta che era la macchina mondiale e allora ho sospeso questo libro e ho scritto in pochi mesi la macchina mondiale la macchina mondiale piacque molto a Pasolini fu pubblicato subito e vinse anche il premio strega e quel libro è rimasto lì anzi è rimasto in questa stanza per tanti anni dentro una cartella di plastica ogni tanto io ho preso un pezzo o due che ho pubblicato su qualche rivista quando avevo delle domande pressanti di qualcuno eccetera però poi l'ha riletto un mio amico e mi ha detto ma il libro funziona è completo insomma ecco allora sono stato indotto a rileggerlo io stesso e l'ho riletto e come ho detto onestamente l'ho appena ricorretto e pubblicato così come era insomma era il primo libro che io ho progettato come romanzo prima ancora di memoriale quando io gli ultimi miei anni a Urbino i primi anni del mio lavoro fuori io pensavo a questo libro che è il libro del mio distacco da Urbino che è il libro del mio giudizio su Urbino sulla vita di Urbino dei giovani in quel periodo pieno di speranze ma anche di incertezze di confusione che era il dopoguerra pieno di nuovi progetti ma teso stranamente Paolo Volponi questo libro è diventato più attuale perché di nuovo delle speranze sono fallite di nuovo c'è una generazione che cerca di qualcosa di sicuro che non sa dove andare come lei vede questa situazione è analoga a quella del dopoguerra oppure no non mi pare analoga hanno molti punti di contatto ma mi pare che siano sostanzialmente diverse allora c'era una grande speranza e una grande forza una grande spinta democratica secondo me no da dove nasce il miracolo economico più che dalla capacità dei nostri imprenditori dalla voglia e dalla forza di lavoro di tutti i nostri concittadini che si sono buttati con impegno perché credevano finalmente in Repubblica di costruire la casa di tutti e quindi quello fu il grande miracolo economico italiano che poi fu deformato sprecato smerciato male proprio da una classe dirigente che non ne aveva capito le qualità e che non aveva la forza per poterlo portare avanti e svilupparlo verso una democrazia industriale corretta avanzata coraggiosa tecnologicamente forte capace di ricercare di studiare cosa che l'Italia non è mai stata anche nei momenti di maggiore fortuna oggi invece noi siamo in un momento di tristezza di riflessione le forze della sinistra sono un po' smarrite hanno perduto quest'ultimo confronto elettorale che è stato vinto poi da delle forze praticamente sconosciute da dei personaggi che sono sorti dietro non so la televisione gli spot i mass media le suggestioni della comunicazione in sostanza ma noi fino a un mese fa due mesi fa non ci ponevamo nemmeno il problema del signor Berlusconi quali idee politiche potesse avere perché sapevamo che era un imprenditore che faceva soldi con la televisione commerciale che emetteva tanta pubblicità e che mirava a possedere praticamente il monopolio della comunicazione e della pubblicità nel nostro paese adesso ci sono queste forze politiche alleate una anche pericolosa pericolosa alleanza nazionale c'ha all'interno per intero tutto il vecchio corpo del movimento sociale che si è sempre detto la continuazione del fascismo e c'hanno ancora la mitologia del duce c'hanno ancora l'idea di un'Italia potenza l'idea di un'Italia romana l'idea di un'Italia forte e ordinata con autoritarismi affermati pensano alla Repubblica Presidenziale pensano a un riordinamento della Costituzione naturalmente in senso restrittivo ecco e questo ci mette in una situazione di difficoltà e di preoccupazione trova in alla sinistra la forza per poter reagire questa forza la dovrebbe trovare nella sua cultura ma la cultura da sinistra da noi è piuttosto fiacca mi pare anche in tutta Europa ma anche da noi smarrita o è classica e rilegge con grande sapienza Marx e Gramsci oppure di fronte ai problemi di oggi una originale visione della cultura di sinistra sul piano dell'economia dell'industria dell'agricoltura della società eccetera è balbettante insomma non è molto forte è politica è propaganda più che una vera e propria cultura io ho amato tanto il partito comunista anche se non ero iscritto il partito comunista perché ero da giovane uno insomma morso dal fascismo prima di cedere a un'altra ideologia guardavi il giro ho letto Voltaire Rousseau ero un po' un po' in allarme perché poi l'ombra di Stalin arrivava da queste parti fortemente però poi ho amato il partito comunista perché l'ho considerato come un maestro buono del popolo italiano nelle sezioni del partito comunista discutevano sui problemi di Urbino sui problemi della campagna sui problemi di tutta Italia avevano libri leggevano libri tanto hanno imparato a leggere nelle sezioni del partito comunista circolavano giornali avevano i loro illustrati i loro settimanali e questo mi piaceva molto perché mi pare una nobile scuola purtroppo questa nobile scuola è anch'essa finita è caduta e non ha lasciato né maestri né allievi c'è piuttosto uno smarrimento e poi questo passaggio dal partito comunista al PDS ha ancora di più confuso la situazione secondo me quindi la cultura di sinistra deve veramente ritrovarsi fare un grande esame rimettersi a studiare insieme proprio direi i punti principali della vita italiana con un occhio suo un'intenzione sua e un progetto suo lasciando stare la politica parlamentare le maggioranze le amministrazioni ma cercando di fortificarsi in vista di un progetto che finalmente possa essere presentato come nuovo coraggioso e fertile a tutto il popolo italiano c'è stato un esempio quando il PCI era forte e vittorioso nel 75 76 ha fatto un convegno a Roma all'Eliseo ha chiamato tutti gli intellettuali italiani perché appunto si cominciasse a discutere eccetera quel convegno fu un fiasco perché gli intellettuali fessero dei discorsini d'occasione ma non ne vennero fuori commissioni di studio non so testi sull'agricoltura testi sull'assiderurgia le ferrovie come studiate i trasporti pubblici la città di Roma l'urbanistica i crolli dei centri storici la conservazione degli stessi niente di tutto questo dei discorsi più che altro sempre così soprattutto sull'anima della sinistra insomma ecco sulla sua bell'anima e la sua buona volontà di portare avanti un discorso popolare allora soltanto qualche considerazione finale perché mi sa che dobbiamo lasciare la sala per il prossimo appuntamento però mi serviva quest'ultimo spezzone perché un po' lega quello che abbiamo detto prima intorno citava prima proprio la storia della strada per Roma scritto e poi abbandonato e poi il suo la sua passione politica che nasce gradualmente e lega però questo questo in questo pezzo discorso che abbiamo ascoltato giunge a puntare il dito su quello che secondo lui è il punto debole ricorrente della sinistra tra l'altro è interessante lo dico poi a quelli più giovani che sono in sala ma sono in effetti questo questa video intervista dell'aprile 1994 significa che è un'intervista girata pochi giorni dopo il cataclisma elettorale nella storia cioè la nascita di quella che poi abbiamo chiamato seconda repubblica che esattamente allora aprile 1994 con la vittoria diciamo inaspettata almeno qualche settimana prima inaspettata di Berlusconi quindi poi nasce il polo delle libertà e è chiaro che il riferimento che fa anche ad alleanza nazionale è particolarmente scottante per lui perché era un problema che nel 94 insomma scuoteva le coscienze bene però lui mette il dito su quello che può essere un rischio in generale del partito comunista delle sinistre però direi più in generale delle belle anime che credono e devono credere nelle utopie che è il rischio della strattezza cioè di un discorso che rimane sempre sui grandi valori sulle grandi idee sì ma ma come si come si trasforma l'industria ma cosa si può fare per l'agricoltura malurbanistica come si governa Roma e d'altra parte sono problemi che sono è un'intervista di 30 anni fa però aggiorniamo un po' un po' di cose anche un po' di abiti ma alla fine sono i temi di oggi perché tuttora le amministrazioni a Roma cadono su questo sinistra destra ma alla fine è sempre super ma le buche a Roma come si riparano cioè è sempre quello poi il problema e oggi abbiamo si sono accentuati problemi urbani metropolitani enormi come quello della pericolosità delle periferie per esempio o della della gestione dei flussi migratori sono i problemi di sempre sì ma i grandi valori che non sono sbagliati ma come si mettono come si calano nella realtà storica e questo mi citiamo a farlo vedere perché siamo partiti appunto da Paolo Volpone innamorato della sua urbino rinascimentale ma siamo arrivati poi alla fine a vedere un punto un passaggio che poi quando guardiamo per intero l'intervista è un punto su cui lui torna continuamente la necessità di una visione pratica della realtà una visione pratica e questo è qualcosa che gli viene dalla sua esperienza industriale tanto nei suoi romanzi quanto nei suoi libri di poesia soprattutto poi se passiamo al libro che raccoglie tutta la sua produzione dagli anni dalla fine degli anni 60 agli anni 80 che si intitola Contesto a fronte c'è spesso in queste poesie il tema del senso di colpa del dirigente industriale che quello mi pare un'ottima testimonianza perché oggi che dobbiamo ragionare sul modo in cui i modelli gestionali stanno assorbendo tutta la nostra vita è interessante vedere come già negli anni 70 in quel luogo dove diciamo è ovvio e naturale che i modelli gestionali vengano esperiti sono sono alla base di tutto la produzione non può essere la produzione industriale non può darsi senza precisi modelli di applicazione anche di formule e però lì Volponi riflette anche molto sul fatto che il dirigente aziendale che ragiona in base a formule in base a modelli tecnocratici poi però dimentica la persona umana sono i due volti che costantemente l'uomo della prassi l'uomo della prassi e non dimentichiamoci che Gramsci definiva il suo pensiero politico filosofia della praxis era l'espressione che preferiva utilizzare rispetto al materialismo storico ma i due elementi pensiero e prassi devono essere in strettissima relazione in costante relazione non c'è un prima e un dopo non c'è nemmeno un prima e un dopo perché nel senso prima la teoria e poi la prassi come quando studiavamo latino prima la teoria poi l'esercizio non c'entra nemmeno questo perché poi c'è una circolarità per cui la prassi interroga nuovamente il pensiero i valori li rimette in circolo è una combinazione una complementarità permanente che tra questi due elementi deve essere vivo e Volponi è stato questo è stata una fulgida immagine un grande esempio di uomo che ha cercato di accompagnare costantemente l'immaginazione del futuro e anche il sogno di un rinnovamento del mondo che poi è il tema invece del pianeta irritabile che è un grande romanzo apocalittico in cui si immagina una catastrofe ma una catastrofe alla quale poi si può rispondere con una palingenesi del mondo a partire dalla animalità cioè al carattere biologico della vita si riparte da lì si riparte dalla concretezza della della fiusis della natura della vita che scorre che bisogna salvaguardare ecco tutto questo in Volponi c'è sempre qui parla da molto da industriale c'è un punto che non ho fatto vedere ma poi chi lo vorrà vedere per intero lo ritrova in cui per esempio lui se la prende con la università di Urbino dicendo che vabbè alla fine che cos'è una università di intellettuali saranno bravi in italiano latino greco vabbè però noi abbiamo bisogno di formare una classe dirigente per questo territorio è interessante il punto di vista cioè che lo dica un umanista uno scrittore e che dica sì vabbè ma per sviluppare il territorio marchigiano per non farlo stare fuori dalla storia o qui formiamo una classe dirigente in grado di trasformare il territorio e creare il lavoro oppure le marche si impoveriscono quindi i due volti sempre insieme penso che questa sia l'eredità più straordinaria che questo scrittore ci ha lasciato vi ringrazio io Daniele ti ringrazio moltissimo di questa di questo ricordo di Volponi così ricco che non può davvero che sollecitare alla lettura delle sue opere perché sono un pezzo di storia che ci porta nel presente attraverso quei pezzi mancanti i pezzi mancanti della riflessione e devo dire che ho rivisto anche con una certa emozione questo documento perché appunto siamo di fronte all'ultima testimonianza del Volponi appunto del 94 quindi prima di morire e pensate che è rimasta inedita per tutto questo tempo e qui mi piace ricordare anche la figura di Giorgio Baratta che aveva voluto questa intervista professore di filosofia a Urbino come diceva il professor Pegorari presidente della International Gramsci Society e che aveva lavorava continuamente ai fianchi di Volponi per indagarne il gramscismo questo lui diceva trascorrevano molto tempo insieme erano amici ma soprattutto erano due intellettuali che ragionavano camminando camminando e riflettendo a partire appunto dalla città ideale di Urbino quindi mi ha fatto anche molto piacere l'occasione di ricordare questo intellettuale scomparso nel 2009 e che ha lasciato molte molte cose particolari ecco nella sua eredità vi ringrazio ancora molto e ci sarà alle 18.30 un altro appuntamento qui in biblioteca e insomma vi lascio al prosieguo del calendario di Lector in Fabula arrivederci a A presto. Grazie. 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 Grazie.